Don Mazzi dai numeri Buongiorno Don Antonio, buon viaggio Ciao ciao, purtroppo sono in macchina perché devo, sapete che ho scomperato una comunità a Bondeno avevo i ragazzi dovuto portarli via e vado a vedere un po' i disastri anzi se avete una roulotte in più, una roulotte a 6 posti una roulotte in più ne ho bisogno perché devo collocarla di vicino per evitare che ci rubino anche quel poco che è rimasto comunque la frase ve la dico bella perché in questi momenti io devo cercare di sorridere e di essere sereno, lo sciocco cerca la felicità lontano il saggio la fa crescere ai suoi piedi straordinario, io purtroppo in questo momento sono poco saggio, ciao ciao ciao